Amiche e amici di BPM Power, benvenuti in questo nuovo video. Guardate un po' che cosa ho qui con me. Ebbene sì, una serie di prodotti Apple. Come potete vedere abbiamo un iPad Pro, una Smart Keyboard Folio e le cuffie AirPods Pro e sono tutti in disponibilità immediata. Partiamo dall'iPad Pro, si tratta del modello da 11 pollici, il display è in liquid retina edge to edge multi touch, retroilluminato led e con tecnologia IPS. La risoluzione è di 2388 x 1668 pixel mentre la densità di 264 ppi. Dotato di tecnologia ProMotion e TrueTone, ha un rivestimento antiriflesso e una luminosità di 600 nit. La frequenza di aggiornamento del display è da 120 hertz. Al cuore di questo iPad troviamo il chip A12Z Bionic con architettura a 64 bit, con Neural Engine e coprocessore M12 integrato. Lo spazio di archiviazione è da 128 gigabyte ma è possibile trovarlo anche nelle versioni da 256, 512 e 1 tera. Il sistema operativo è iPadOS, il quale offre una serie di potenti funzioni e applicazioni progettate per sfruttare al massimo le straordinarie capacità di iPad. Sul retro troviamo nell'angolo in alto a sinistra un quadrato che ospita una doppia fotocamera, un ultra grandangolo da 10 megapixel e un grandangolo da 12 megapixel e lo scanner LiDAR. Nella parte anteriore è presente la fotocamera TrueDepth da 7 megapixel che consente a Face ID di sbloccare rapidamente il dispositivo. iPad Pro da 11 pollici è dotato di ben 5 microfoni di qualità professionale per chiamate e registrazioni audio e video e di 4 autoparlanti. Presenta una batteria integrata ricaricabile ai polimeri di litio da 28,75 wattora, il che consente fino a 10 ore di navigazione in wifi, riproduzione video o riproduzione audio. La ricarica avviene tramite alimentatore o tramite computer via USB-C. iPad Pro 11 pollici funziona ancora meglio con la Smart Keyboard Folio, seconda generazione. Si tratta di una tastiera che quando l'attitude diventa una cover elegante che protegge il dispositivo sia sul fronte che sul retro. È possibile scegliere fra due angoli di visione e non bisogna ricaricarla né abbinarla. Basta semplicemente agganciarla al proprio iPad e iniziare a scrivere. Infine le AirPods Pro, piccole e comode con un suono potentissimo. Questi auricolari sono un minuscolo concentrato di alta tecnologia, progettati attorno al SIP, System in Package, e sfruttano la potenza del chip H1, che fa funzionare tutto, dall'audio a Siri. Anche grazie alla connettività Bluetooth 5.0, Airpods Pro offrono prestazioni wireless impeccabili e accoppiamenti estremamente rapidi tra dispositivi. In più sono certificati IPX4, il che significa che possono resistere agli spruzzi d'acqua e sono al sicuro da sudore e pioggia leggera, ma non possono essere immersi. Sul microfono è presente una superficie in rete stirata che migliora la qualità audio quando si fa una telefonata, per esempio in una giornata di vento. Questi auricolari sono rifiniti in ogni singolo dettaglio per dare comfort, isolamento acustico e una cancellazione attiva del rumore estremamente efficace. Si adattano perfettamente alla forma dell'orecchio e restano ben saldi al loro posto. Possono essere ricaricati tramite la custodia di ricarica wireless che garantisce oltre 24 ore di autonomia ed è compatibile con i caricabatterie certificati QI o connettore lighting. Apple indica fino a quattro ore e mezza di ascolto con una sola carica, fino a cinque ore disabilitando la cancellazione attiva del rumore e la modalità trasparenza e fino a tre ore e mezza di conversazione con una sola carica e fino a un'ora di ascolto con soli cinque minuti di ricarica. Potete trovare tutti questi prodotti su BPMPower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non lo avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e seguirci su Instagram. Ciao a tutti e al prossimo video!